Da piccola guardava con ammirazione i suoi film e sognava, non il principe azzurro, Woody Allen, che è proprio un adone, non è, ma è sicuramente un mostro di bravura. Marina Rocco non poteva certo immaginare che un giorno il desiderio di essere diretta da lui si avverasse e invece mai dire mai. L'attrice è tra gli interpreti di True with Love. Siamo qua. Com'è stata questa esperienza? È stata un'esperienza magica, magica veramente, una cosa che ho sempre adorato Woody Allen e ho sempre sognato in grande nella mia vita, ma non avevo pensato che avrei potuto veramente conoscerlo e fino al giorno prima dicevo ma davvero? Cioè ho pensato, ma veramente l'ho effettivamente incontrato. Com'è stato lavorare con lui proprio dietro la telecamera? È stato, ero molto molto...